Sono 79 gli imprenditori indagati in un'inchiesta della Guardia di Finanza di Catanzaro contro il riciclaggio e le false sponsorizzazioni sportive. I finanzieri, su disposizione della Procura della Repubblica della Mezzaterme, hanno anche sequestrato beni per 400 mila euro nei confronti di 43 indagati, che operano in Calabria ma anche in Sicilia, Campania e Toscana. Le indagini hanno portato alla luce un ingente giro di fatture false collegato alle false sponsorizzazioni. In particolare c'è un'associazione sportiva di la Mezzaterme che aveva creato un vero sistema di doppia fatturazione. Tutto ha avuto inizio nel 2006, quando la Banca d'Italia ha segnalato alla Guardia di Finanza dei movimenti sospetti sul conto corrente della società sportiva. Nei quattro anni presi in esame dai finanzieri è stato accertato un giro di fatture false per 3 milioni e 300 mila euro e questo consentiva all'azienda e sponsorizzatrici di detrarre ingenti somme dalle tasse da pagare. Il meccanismo messo in atto nelle indagini di oggi è un meccanismo che potrebbe sembrare a prima vista complesso, ma che in realtà all'esito delle accurate indagini è un meccanismo abbastanza semplice. Vi è un soggetto il quale consente tramite fatturazione di operazioni inesistenti ad altri, in questo caso sono operatori commerciali, di abbattere costi, figura aver pagato 100 in realtà paga 10 e conseguentemente evadere il fisco. L'altro aspetto molto importante è quello patrimoniale, quello economico. La nuova normativa consente di aggredire immediatamente i patrimoni dei, chiamiamoli per ora, presunti evasori, nel senso che vengono sottoposti a sequestro e poi all'esito del giudizio a confisca le somme che hanno costituito oggetto dell'evasione. Indirettamente si influisce così sul modo comune di pensare che cioè per ora evado, tanto poi tra condono e tutto il resto, in qualche modo avrò dei vantaggi.